La Juve Stabia guarda con entusiasmo al mezzo con il Catania, soprattutto dopo il pareggio arrivato con il Brindisi che ha rafforzato e consolidato quelle che sono le convinzioni e le ambizioni dei campani, non soltanto per il buon punto arrivato su un campo difficile ma anche per le modalità con le quali è arrivato il pareggio, con la Juve Stabia non soffrire eccessivamente dopo l'espulsione arrivata al quindicesimo del primo tempo di di Romeo è brava anche a scampare il pericolo finale del rigore di Gans parato da Tiamma due minuti dalla fine. Sicuramente la partita di Brindisi rinviata a martedì quando era inizialmente programmata domenica può aver condizionato un po' il recupero atletico della squadra però certamente il pubblico delle grandi occasioni che si attende domenica allo Stadio Menti farà sì che gli uomini di Paiuca non sentano ecco l'eventuale stanchezza. Qualche problema di formazione può esserci sul fronte offensivo viste le assenze di Marcianzino espulso dalla panchina a Brindisi ma soprattutto di Romeo che in seguito al parapiglie innescatosi proprio sul campo pugliese è stato sanzionato dal giudice sportivo con addirittura tre giornate di squalifica. Salvo queste assenze in particolare quella di Romeo si attende la formazione ormai tipo cui si sta affidando Paiuca.